Il 13 ottobre alvia il nuovo processo per la morte di Stefano Cucchi. Oggi avrebbe compiuto 39 anni. Per ricordarlo, numerose le iniziative a Roma. Sentiamo Giorgio Matteoli. Oggi Stefano Cucchi, nato il 1 ottobre del 1978, avrebbe compiuto 39 anni. Tra pochi giorni, il 13 ottobre, partirà il nuovo processo per accertare le cause della morte del giovane romano. E così la Capitale lo celebra con la terza edizione di Corri con Stefano, il memoria alla lui dedicato. Una manifestazione sportiva nel parco degli Acquedotti, voluta oggi e non il 22 ottobre, giorno del suo decesso, perché, ha spiegato la sorella Ilaria, quello che si vuole lanciare è un messaggio di speranza e di fiducia. Messaggio che sarà trasmesso anche in un evento in serata. Il compleanno di Stefano non finisce qui, prosegue questa sera a partire dalle ore 19 all'ex Dogana, dove tantissimi artisti hanno voluto essere al nostro fianco, al fianco della famiglia Cucchi, al fianco dell'associazione che ricorda Stefano, l'associazione Stefano Cucchi Onlus. Giovani e meno giovani, persone del mondo dello spettacolo, uniti per non dimenticare Stefano Cucchi e chiedere tutti insieme la verità sulla sua morte. Noi cittadini, gente con un senso civico e della giustizia, ci teniamo a stare vicino a Ilaria, che vorrebbe essere una festa, essendo il suo compleanno, ma purtroppo lui non è più con noi.